Ciao a tutti! Oggi prepareremo il chili con carne. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Ingredienti sono fagioli precotti, cipolla, carne tritata, aglio, polpa di pomodoro, vino bianco, peperone, olio, peperoncino, timo, sale, pepe nero e zucchero di canna. Andiamo via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla e l'aglio e il peperoncino ed azioniamo i bimbi per 5 secondi a velocità 5. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il peperone, l'olio, e facciamo insaporire per 5 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la carne tritata. rosolare per 8 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere il vino bianco, e sfumare per 3 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere la polpa di pomodoro, zucchero di canna, il pepe, e il sale. Facciamo cuocere per 15 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Aggiungere i fagioli e far cuocere per 5 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Il cili è pronto. Trasferire in un piatto da portata, cospargere con il timo e servire. Cili con carne. Grazie e alla prossima ricetta! Cili con carne. Grazie a tutti.